Benvenuti e benvenute, vi presento Rubik Cube della Giant Guriala, spero di aver pronunciato bene il nome simula appunto il famoso gioco cubo di Rubik già nel menu iniziale abbiamo una vasta scelta di opzioni che possiamo affrontare Freeplay è il gioco libero in cui si può risolvere il cubo Friedrich Tutorial mostra come risolvere il rompo capo Make Your Cube ci permette di colorare le varie facce del cubo come vogliamo Checkpoints è per i salvataggi e da questo punto in poi, da Leatherboard Shuffle in giù abbiamo a disposizione una serie di modalità di gioco che si basano sul numero di mosse da noi effettuate per risolvere il rompicapo e che si basano anche sul tempo che impieghiamo per risolvere il rebus ora vi mostro il Freeplay e vi spiego anche un pochino come funziona questo è il nostro cubo, se selezioniamo Change Dimension andiamo a modificare il tipo di gioco io di solito ho sempre utilizzato la configurazione 3x3x3 ma ce ne sono anche altre vedete la 2x2x2, la piramide 5x5x5 e così via a seconda di quello che ci sentiamo di affrontare invece se noi andiamo a selezionare Shuffle il cubo in automatico inizia a mescolarsi poi quando abbiamo deciso che è mescolato a sufficienza ci basta selezionare Stop gli stats invece ci indicano, ci fanno vedere il tempo che stiamo impiegando per risolvere il rebus e il numero di mosse da noi compiuto in questo caso è 0 perché non abbiamo ancora iniziato in ogni versione, cioè in ogni applicazione che ho provato muovere sia le colonne, sia le righe che l'intero cubo mi ha risultato abbastanza comodo per muovere l'intero cubo basta trascinare un dito nello spazio circostante al cubo stesso e questo inizierà a orientarsi come vogliamo noi l'unica cosa, ma non è assolutamente una critica ai vari programmatori è che ovviamente utilizzare il cubo reale è sicuramente più comodo specie quando dobbiamo orientare il cubo per cercare i pezzi che abbiamo bisogno di muovere comunque sono tutte quelle che ho provato erano delle buone applicazioni ora invece vorrei raccontarvi qualche cosa sul gioco vero e proprio è stato inventato da Erno Rubik nel 1974 originariamente era chiamato Magic Cube e fu creato per scopi didattici infatti si diffuse prevalentemente in ambito accademico fra i matematici solamente in seguito fu commercializzato al grande pubblico e fu ed è tuttora il gioco più venduto nella storia pensate con più di 300 milioni di pezzi venduti è stato brevettato nel 1975 cioè il progetto di Rubik fu brevettato a metà degli anni 70 e è possibile risolvere questo rompicappo seguendo anche se vogliamo un determinato modus operandi se anche voi volete avvicinarvi a questo gioco e volete imparare come risolverlo vi consiglio di guardare il link che vi ho messo in descrizione è il link a un canale YouTube dove un ragazzo spiega come risolvere il cubo con il metodo astratti ci sono anche altri metodi però io vi consiglio quello, mi sono sempre trovato bene ecco, questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale mettermi un bel mi piace, commentare, condividere e noi ci vediamo alla prossima occasione ciao a tutti ciao